Fossa le mani al tamburello tradizionale Matteo Pispico! Forza tutti con le mani, non stai benvenuti qua sotto! Al tamburello tradizionale direttamente da Colle Passo, Luca Umpare Peppe, giocatore delle carte Giuseppe Marra! Forza tutti con le mani, bravo! Forza tutti con le mani! Per il nostro paesano, al tamburello progressivo, Gioele Nuzzo! Grazie! 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 Grazie!